Ecco, il Premier Renzi si è buttato a pesce su questa storia, sulla scorta del mal comune e mezzo gaudio. In realtà gli indagati, gli avvisati, gli arrestati, i condannati del Partito Democratico superano il centinaio di persone. Anche qua Renzi è passato dall'essere giustizialista a ipergarantista. Voglio ricordare due anni fa, 2013, quando c'era il ministro Cancellieri, il ministro della giustizia nel governo Letta, che aveva qualche problemino, invocò le dimissioni. Poi non voglio, anzi voglio andare un po' indietro negli anni. Ma andiamo anche avanti, senatore. Dico andiamo anche avanti poi, oltre ad andare indietro, per carità, lei ha ragione. Allora gli avvisi di garanzia a Berlusconi, insomma, si stracciavano le vesti. Detto questo, il Partito Democratico ha dei problemi e ce li ha soprattutto il Movimento 5 Stelle, che adesso scopro, vuole essere giudice dei propri uomini. Perché Pizzarotti è stato sospeso, non perché sono entrati nel merito della vicenda, ma perché lui, per scarsa trasparenza, non ha comunicato in tempo congruo il fatto che era avvisato. Su Nogarin è tutto tace, ma lì mi pare che le ipotesi di accusa sono molto forti e qui devono mettersi l'opera quelli del Movimento 5 Stelle, perché a furia di fare i puri c'è sempre qualcuno, lo diceva Nenni, che è più puro di loro. Insomma, quindi adesso devono decidere, perché il problema dei 5 Stelle non riguarda solo Pizzarotti e Nogarin che sono passati alle cronache negli ultimi giorni, ma sono molti sindaci, dei pochi sindaci del Movimento 5 Stelle che hanno problemi con la giustizia. Il sindaco di Quarto, il sindaco di Bagaria, il sindaco di Pomezia, il sindaco di Gelas.